E' stata una bella partita, si rappresentava tanto, ci tenevamo a vincerla per continuare la nostra marcia nei piani alti della classifica, l'obiettivo nostro era segnare 4 mete per portare il bonus a casa che ci consentiva il distacco dalla seconda e l'obiettivo l'abbiamo portato a casa. Anche se nel primo tempo abbiamo sofferto un po', poi nella ripresa non ci sono stati problemi, abbiamo dilagato e legittimato il risultato. Vuol dire che avete dato un segnale forte al campionato? E' un segnale forte, lo dovremmo dare nelle partite in cui ci affronteremo la seconda e la terza che nelle partite di lagare di andate le abbiamo perse entrambi. Quindi noi aspetteremo quelle partite per vedere se davvero possiamo arrivare primi in classifica. Cosa è cambiato dal girone di andata a questo inizio del giovedì torno? Questa era la prima giornata, ora affronteremo tutte le squadre che già abbiamo affrontate. Come ben sai ne abbiamo vinte 6 e perse 2 e quindi ci aspetteranno delle squadre molto più organizzate rispetto all'andata. Ma anche noi però possiamo dire la nostra fila alla fine. Si vince, la ricetta vincente è sempre la vittoria e quindi c'è molto entusiasmo sia da parte dei ragazzi che sono molto ambiziosi e hanno partecipato attivamente a questo progetto. Ma anche da parte della società sia del versante avellinese e quello salernitano ci sono buone prospettive per il futuro. Un altro derby avellino salernitano è un derby per te molto sentito, per gli altri della squadra c'è stato queste sensazioni particolari oppure sei stato Arturo contro tutti? No assolutamente il calcio non entra nello spogliatoio, c'è qualcuno come me che lo segue anche ma la maggior parte sia avellini sia salernitani non si interessano. L'obiettivo nostro è il rugby, fare bene il rugby quindi continuiamo così sulla nostra strada. Non mi sembra neanche il caso visto che stiamo andando così bene non mi sembrava sciocco anche se vogliamo sfottere gli amici salernitani diciamo così.